amici di inter fan tv cuori forti fortissimi nerazzurri bentornati bentornati da michele borelli alle nostre video news come promesso secondo appuntamento settimanale poi ci sarà il post partita di inter viglia real ultimo appuntamento prove generali per il campionato sabato sera a pescara il 6 di agosto tra l'altro partita visibile anche sul sito dell'inter sull'app sulla nuova app nera azzurra su inter tv e quindi un po anche sulle varie piattaforme perché inter tv il canale ufficiale dell'inter è visibile sia su da zone che su sky allora prima di andare a queste soluzioni che in zaghi sta prendendo in considerazione anche per le prime giornate di campionato e poi una sorpresa per chi ama la storia del tifo nera azzurro prima dicevo di arrivare al campo quindi anche le ultime di mercato ho detto che inter tv è visibile come in effetti è anche sulle piattaforme di sky e da zone allora sto registrando il video nella serata di giovedì fatemi spendere proprio pochi secondi pochi secondi perché sono veramente distanti questi che organizzano questi che propongono che si fanno palladini del calcio per tutti sky da zone clamoroso c'è l'accordo c'è l'accordo e in cosa consiste l'accordo perché non c'è più l'esclusiva di team per trasmettere da zone sul suo di decoder può tornare anche su sky quindi su sky q ma cosa cambia nella sostanza per chi guarda le partite che tu non devi per forza cambiare telecomando e da sky q puoi vedere anche da zone ma non è che paghi di meno un euro in mente anche un euro in meno no c'è anche un canale come era prima il 209 passa al 214 per chi ha sky dove ci sarà zona da zone e se tu vuoi questo canale in più dove ci sono le sette partite esclusive di da zone in campionato quindi non vuoi andare su sky q ma vuoi proprio direttamente da 214 vedere anche da zone 5 euro in più ma ragazzi mi fanno veramente ridere mi fanno ridere 5 euro in più cioè io devo pagare 5 euro in più per non schiacciare due volte un bottone ma siamo veramente alla follia siamo alla follia sky da zone tutti siamo alla follia al momento la migliore offerta è quella di team vision 19 99 che però poi il secondo anno aumenta raddoppia poi c'è da zone che è passata da 19 a 29 o a 39 se lo dividi con un'altra persona altrimenti comunque l'aumento passa da 20 a 30 euro sky il pacchetto mini minimo e 14 90 senza niente c'è senza calcio poi gli devi mettere appunto sky calcio oppure gli devi mettere devi comunque avere da zone e poi se vuoi vederlo sul 245 euro in più insomma ragazzi non ne parliamo di champions league e devi fare sky sport il mercoledì amazon prime la partita in esclusiva siamo vera oggi quando veramente stasera ho letto dice di pagare 5 euro in più se vuoi avere zona da zone massimo schiaccio cambio con il telecomando e vado su sky q oppure direttamente sull'app di da zone senza proprio passare da sky incredibile incredibile torniamo a noi le cose le cose serie le cose importanti dell'inter allora cose belle cose belle perché ecco vi faccio già vedere come concluderemo questo video vedete qua c'è un reperto storico che oggi ho ritrovato oggi ho rivisto un po tante cose che avevo qui a casa mia quando ero a scuola quando ero più piccolo tutte le collezioni di cose dell'inter vedete qua sullo sfondo anche un dvd di quando sono stato a inter channel nel 2007 oppure la storia dello scudetto dell'ultimo scudetto dell'inter ma poi ho ritrovato delle cose incredibili degli anni 80 degli anni 90 magari un giorno facciamo una diretta con tutte queste con tutti questi cimeli però prima il mercato il mercato c'eravamo lasciati con sanchez e pinamonti in uscita sono ancora lì lì per ma ancora non sono non ci sono gli accordi sanchez sempre più vicino alla risoluzione del contratto il marsiglia poi potrebbe essere la sua soluzione ma diciamo agli interisti può interessare meno quella che sarà la sua prossima squadra interessa invece di più la modalità d'uscita con appunto come ormai era era noto una risoluzione con un anno d'anticipo con buon'uscita intorno ai 5 milioni di euro 4 milioni e mezzo 5 milioni di euro più 5 milioni di euro che 4 milioni e mezzo sono circa 7 a lordo col decreto crescita quindi un risparmio diciamo di circa 2 e mezzo rispetto ai 9 e mezzo lordi che erano prima considerando che però luglio è già passato insomma il risparmio è veramente esiguo anche rispetto a quello che è stato il risparmio del contratto di vidal per quanto riguarda invece pinamonti c'è il sassuolo che sta superando tutti perché il sassuolo sta per vendere molto probabilmente venderà raspadori al napoli e quindi avrà soldi e posto anche in squadra cosa che l'atalanta ancora non ha anche se pinamonti aveva praticamente l'accordo con con l'atalanta con gasperini ma l'inter non aveva la non ha l'accordo con l'atalanta e quindi il sassuolo potrebbe sempre più concreto il sorpasso sassuolo che potrebbe essere anche diciamo importante per il futuro di cesare casadei perché potrebbe il giocatore andare al sassuolo con la possibilità poi di una cifra già concordata per il ritorno all'inter nei prossimi anni un'opzione una ricompra una via preferenziale a un prezzo già stabilito un accordo diciamo formale anche per il ritorno poi di casadei questo potrebbe portare all'inter una trentina di milioni di euro tra pinamonti e casadei e quindi potrebbe anche essere utile quel famoso tesoretto che poi deve raddoppiare intanto deve raddoppiare entro il 30 giugno 2023 però parti già da 30 milioni incassati inter che tra l'altro potrebbe prendere anche il 15 per cento dalla vendita della roma di zaniolo perché il tottenham sta facendo sul serio per zaniolo vediamo se alla fine il tottenham arriverà a 50 milioni la richiesta della roma sette e mezzo andrebbero all'inter c'è il 15 per cento poi sempre i giovani ancora sul mercato agumè e salsedo per il resto mercato in entrata deve arrivare un difensore un difensore al posto di ranocchia intanto ci sono i giovani anche della primavera ce ne saranno tre stabilmente in prima squadra potrebbero essere zanotti fontanarosa secca sadeiva e valentin carboni quindi potrebbe cambiare un po con un difensore in più ma oltre a fontanarosa può arrivare ancora dovrà arrivare ancora un difensore poi ovviamente al netto di possibili offerte per i giocatori attualmente rosa galtier allenatore del del pari saint germain ha detto devono arrivare ancora anzi vorrei ancora mi avete chiesto un numero tre giocatori renato sanchez è già arrivato quindi renato sanchez non va al milan botto ma non è andato al milan però tutto questo diciamo cancan mediatico di obiettivi mancati non l'ho visto rispetto a quello che era successo per esempio con dibale bremer con la differenza che bremer doveva arrivare al posto di un titolare il titolare l'intero ancora ce l'ha mentre per esempio il milan voleva colmare il la lacuna della partenza di che sì anche se oggi ci spacciano bakayoko e krunic o il ritorno di pobega come i giocatori utili in quel reparto però pensiamo di più a noi perché poi mi verrebbe da dire pure la juventus l'inter si parla di smantellamento da due anni sono partiti due e uno è tornato indietro c'è lukaku l'altro e rakimi sostituito tra l'altro da dunfris mentre la juventus in questi due anni stanno partendo di giocatori continuano ad essere anche sul mercato altri dopo i dibale morate i kluseschi cristiano ronaldo dell'hit chiellini bentancur ramsey forse adesso anche artur rabio vabbè adesso non voglio parlare anche di quelli magari che non sono al centro del progetto però si parlava dell'inter che vendeva tutti alla fine gli altri vendono abbiamo già dedicato troppo tempo al diciamo parte mediatica di come vengono presentate certe cose l'inter spende ed è un poco invidiabile primato la spesa spende la juventus e la forza della proprietà che spende che sono un po come si cambia diciamo una stessa notizia seconda della squadra a cui viene abbinata allora le cose interessanti invece per quanto riguarda il campo sono essenzialmente due potremmo dire due e mezza perché la prima qual è nell'amichevole con la pergolettese di mercoledì molto interessante secondo me devrai non ha giocato quindi anche per migliorare la condizione non è infortunato però ha continuato ad allenarsi e screener ha giocato 75 minuti al centro vi ricordate come è finito il campionato aprile e maggio per esempio juventus inter screener al centro ha dato sempre grandi garanzie quindi proprio per come si sta definendo l'inter in vista della prima giornata anche perché il difensore centrale che deve arrivare potrebbe arrivare a fine agosto questa cosa di screener al centro può tornare può essere anche ribadita con screener e vice devrai con bastoni a sinistra è stato provato ancora di marco nei tre di difesa quindi è tornato a fare il terzo di difesa di marco primo tempo d'ambrosio screener e di marco con la pergolettese 8 a 0 squadra di serie c secondo tempo darmian che aveva fatto il primo da esterno di sinistra è passato a fare quello che ha fatto più volte in questo precampionato il terzo di difesa con screener che è rimasto al centro e bastoni che è andato a sinistra nel secondo tempo al posto di di marco poi sono entrati negli ultimi minuti anche zanotti e fontana rosa due di quelli che abbiamo detto potrebbero essere aggregati alla prima squadra e crescere sempre di più anche con i più grandi quindi attenzione a un inter che potrebbe avere bastoni a sinistra screener al centro e od ambrosio darmian titolari perché in questo momento od ambrosio od armian tutti e due stanno molto bene anche meglio di devrai e screener da grandi garanzie al centro tra l'altro l'inter quanto in quando imposta si mette a quattro perché brozovic si abbassa dove ci sarebbe in questo caso screener e non devrai e i due della difesa a tre laterali diventano terzini e quindi sarebbero od armian od ambrosio a destra e bastoni a sinistra quindi non è che ha veramente senso considerare anche questa variante quindi screener centrale e od ambrosio darmian titolari sul centro destra con bastoni centro sinistra l'altra l'altro aspetto gossens ha fatto tutto il secondo tempo con la pergolettese quindi sta crescendo ha fatto un tempo la settimana scorsa poi il finale nella penultima amichevole adesso di nuovo un tempo primo tempo invece darmian esterno di sinistra quindi di marco che aveva giocato bene comunque nell'ultima partita esterno di sinistra potrebbe a lecce partire lui sta bene quindi è giusto secondo me sfruttarlo più lì a sinistra con dunfris a destra poi dunfris e bellanova hanno fatto un tempo ciascuno così come si sono alternati aslani ha giocato con diciamo tra virgoletti titolarissimi barella e cialanoglu nel secondo tempo mentre brozovic nel primo tempo ha giocato con mikitarian e gagliardini diciamo che qui è più delineata la titolarità di barella brozovic e cialanoglu anche se aslani sta crescendo veramente sempre di più e può essere impiegato sia vice barella sia vice cialanoglu sia vice brozovic in più con questi tre anche andando a fare il trequartista come in interempoli davanti la mezza variante quindi prima variante per lecce inter screener centrale con d'ambrosio d'armian titolari sul centrodestra e bastone sinistra seconda variante di marco titolare con gossens che può diciamo aumentare la forma la percentuale insomma di forma con il tempo però gossens considerato sempre titolarissimo inamovibile ma non per forza dalla prima giornata ovviamente di volta in volta si considera chi sta meglio e se di marco oggi sta meglio che deve giocare gossens perché sulla carta il titolarissimo davanti in zaghi ha fatto questo miscuglio delle carte quindi primo tempo geco lautaro come l'anno scorso secondo lukaku e correa non è che lukaku lautaro non sarà la coppia titolare sarà la coppia titolare però può essere molto utile anche vedere per in zaghi delle soluzioni durante la partita quindi per esempio lautaro quando lukaku è squalificato lukaku deve rifiatare ci saranno sempre tre partite a settimana lautaro che torna prima punta di riferimento e uno come geco anche come correa che già l'anno scorso l'hanno fatto seconda punta oppure lukaku quando lautaro è squalificato deve rifiatare o comunque ci sono sempre tre partite a settimana e quindi esce lautaro lukaku insieme anche a correa che può essere anche può avere dei benefici da giocare a fianco a uno come lukaku per caratteristiche correa che gli piace a cui piace partire da lontano ma anche la coppia lukaku geco è una coppia che per esempio conte avrebbe voluto già nel 2019 20 quindi diciamo questa è la mezza novità cioè delle coppie anche un po più interscambiabili del lukaku lautaro la lula e geco correa ma le due invece più grosse secondo me soprattutto quella di screener centrale perché questa se devrai non torna il devrai di due anni fa mi sembrerebbe strano perché quest'anno ha avuto problemi anche extracampo il procuratore un procuratore la causa vinta però devrai a 30 anni se così dovesse essere c'è d'ambrosio continua a dare grandi garanzie o d'armian continua a dare grandi garanzie uno che fa il terzino anche a tre perché si può allargare screener centrale che dà soprattutto in partite difficili screener centrale ha fatto vedere anche l'anno scorso di poter fare molto molto bene per esempio a liverpool per esempio a torino con la juve e potrebbe ricominciare da lì l'altra abbiamo detto di marco a sinistra allora vi voglio un po deliziare con questa storia la curva della storia la storia della curva e chi siamo noi questo è il giornale della curva nord ma non è un l'urlo della nord qualsiasi è un anno uno numero uno registrato in autorizzazione presso tribunale di milano 2 aprile 1989 portò anche bene quindicinale della curva nord lire 1000 perché non ci fu più lo spazio nel giornale ufficiale dell'inter inter football club e quindi loro pensarono di aprire un nuovo quindicinale un periodico dedicato al tifo non ve lo sto adesso a leggere tutto erano quattro pagine vedete anche con storie di gruppi ma anche battute filosofie nero azzurro insomma tante divertenti tante divertenti ma più che le battute vi voglio leggere un po l'inizio questa storia della curva per questo primo numero del giornale della curva siamo stati indecisi su quale argomento trattare ma visto che il primo numero è sempre un numero storico abbiamo optato per raccontare la nostra storia crediamo infatti che ben pochi nella moltitudine che ci segue ogni domenica sia a conoscenza delle vicende che hanno portato alla formazione dei due gruppi più importanti e numerosi della curva i boys e i forever ultras la nascita dei boys è datata a 1969 un periodo in cui l'inter aveva conquistato tutto e si sentiva il bisogno di un tifo grande quanto la squadra da sostenere negli anni precedenti due inter club i moschettieri e l'undici stelle di roma avevano incitato con i validi risultati la squadra nera azzurra ma con tutto il rispetto parlando sarebbero stati ben poca cosa a confronto della forza trainante dei neonati boys quest'ultimi si sistemano in una posizione molto particolare sotto il riflettore a sinistra della curva nord quindi già la posizione era diversa all'inizio quest'ultimi appunto sotto il riflettore a sinistra della curva nord posizione penalizzante per chi vuole solo vedere la partita ma a questi ragazzi non importa l'incitamento costante ai colori nerazzurri è l'unico motivo della loro presenza allo stadio siamo arrivati a metà degli anni 70 forse per creare nuovi entusiasmi viene creato un nuovo gruppo il potere nerazzurro che si pone al centro della curva nord il gruppo ha durato abbastanza breve a causa dei continui dissidi con i boys che i maligni dichiarano essere stati di origine politica ma più verosimilmente erano dovuti alla decisione da parte di potere di contestare ad oltranza l'inter che in quegli anni aveva risultati deludenti c'erano già allora gli inter tristi potere nerazzurro si sfalda l'ala moderata scende nei distinti diventando poi la tuttora esistente milano nerazzurra un'altra parte rimane nei popolari aderendo ai forever ultras che si accordano con i boys per una comunione di intenti e soprattutto di tifo per l'inter i boys si spostano in curva nord mettendo lo striscione a fianco degli ultras il numero dei simpatizzanti dei gruppi è infatti così alto da imporre lo spostamento del tifo nel cuore della curva nord e quindi questo spostamento siamo ormai arrivati agli anni 80 la situazione non si è più modificata se non per il continuo formarsi e scomparire di tanti piccoli gruppi intorno ai due colossi del tifo nerazzurro di ieri e di oggi parliamo qui dell'89 i boys safe forever ultras approfittiamo di questo numero per dire grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche quando l'inter era un po meno grande a quelli che ci seguono da ora per farla ancora più grande grazie ragazzi insieme per vincere chi siamo noi ultima curiosità sui boy sun proprio vent'anni di storia nerazzurra perché dal 69 all'89 facevano vent'anni poi adesso abbiamo visto anche il cinquantesimo tre anni fa la storia quindi è continuata ovviamente vent'anni di storia nerazzurra erano nell'89 sono legati al più vecchio gruppo storico oltre ad italia i boy sun ovvero le squadre d'azione nerazzurra sun già furie nerazzurre da sempre fiancheggiano l'inter in tutte le partite di campionato e coppe molti hanno copiato le iniziative dei ragazzi di allora che oggi che oggi vestono in doppio petto con tanto di lauree e qualche capello grigio felici di aver i loro figli ora seduti al loro posto in curva nord i boys sono come le squadre in campo in cui tutti i componenti siano accumulati dal desiderio che la squadra abbia successo il polso a questi ragazzi lo fanno sentire quelli della vecchia guardia ed esiste un vero rispetto nei confronti degli anziani tra virgolette il gruppo da sempre è stato ammirato dalle tifoserie altrui per il coraggio e la combattività nel difendere e realizzare cose concrete smascherando l'ipocrisia degli utopisti per ultimo vedasi appunto questa realizzazione improprio dell'urlo della nord che nasceva nell'89 dopo essere stati defraudati di un giusto spazio conquistato sul giornale ufficiale dell'inter che era un po il successo di tutta la curva nord i boys sanno che per realizzare conquiste concrete occorre l'intelligenza di capire le singole situazioni e il coraggio di non lasciarsi allontanare da questo proposito né da minacce né da lusinghe quando poi come nel periodo attuale alcuni fatti che fanno male sotto varie forme occorre la forza di carattere e l'energia psicologica che hanno sempre avuto gli avversari dei corrotti oggi boys hanno compreso che non è possibile sfuggire a questa alternativa o rassegnarsi a scomparire nel greggio dei pavidi o avere il coraggio di combattere e qui il finale specifica questo combattere perché qualcuno ultras continua a confondere il significato originale ma qui i giovani boys hanno chiara la distinzione fondamentale che li distacca dagli altri gruppi essi devono essere dei combattenti non dei guerriglieri debbono essere coraggiosi non violenti questo accade perché i boys non sono predicatori di guerra ma di concordia e di collaborazione non hanno paura di combattere ma combattono se costretti sporcare un nome che da vent'anni è invidiato e forse l'ingiustizia più grave che si possa fare a un boy san l'urlo della nord l'urlo della nord il tifone razzurro che sta per tornare inter spezia inter cremonese ma anche milan inter il 3 di settembre anche se sarà solo il secondo anello verde perché sarà in casa il milan stanno per tornare le partite che contano con le novità scrimier di marco la lula bellanova aslani michitarian onana che è stato scelto dal camerun come l'uomo immagine per il mondiale quindi i nuovi acquisti dell'inter che ci godremo qualcuno però non si vuole godere ma ognuno può fare quello che vuole il campionato sta per iniziare prima la prova generale interviglia real io credo che in zaghi possa fare anche meno sostituzioni del solito con il viglia real perché se sono prove generali cinque sostituzioni forse per l'ultima volta ne farà qualcuno in più ma poi a lecce lecce che tra l'altro ha superato il record di abbonamenti verso 19.000 inter prima tanto per cambiare 40 41.000 abbonamenti metà sta più di metà stadio alla fine ci sono stati anche degli abbonamenti al terzo verde a 190 euro grande iniziativa del club ci vediamo quindi nel post partita di interviglia real per commentare questa prova generale questa prova generale nell'aria c'è profumo di vittoria il cuore nero azzurro sogna gloria da poter cantare fedeltà alla sua storia ora di nero azzurro il cielo si colora questo era a proposito di anni 80 l'inno dei camaleonti 1984 forza inter forza ragazzi torna anche forza ragazzi per quanto riguarda lecce inter e poi dal 16 di agosto qui su interfan tv tutte le dirette quotidiane torniamo alle maratone torniamo alle telefonate torniamo ai commenti torniamo a i programmi con gli ospiti torniamo alla nuova stagione inter 22 23 forza inter forza ragazzi forza inter fan tv a presto ciao e perdonatemi se ancora per qualche giorno non ci sarà anzi per questo video perché già dopo sabato sabato si ci saranno sia la chat che i commenti buona serata buona fine settimana a una settimana dal via poco più ciao